Hola amigos, siamo tornati con un nuovo video per farvi vedere la nostra nuova attrezzatura Bellissima attrezzatura Sì, per modo di dire Ovvero una lampada a scrivania per illuminare le nostre registrazioni Dato che attualmente stiamo usando il telefono Senti, ora è molto buio, però migliorerà la cosa La lampada è una lampada della Inatec Per esattezza la Tomons DL1004 È molto figa Vi lascio il link di Amazon in descrizione Avete tre secondi per indovinare che colore abbiamo scelto Esatto Nera, verde, bianca Uno, due, tre Avete indovinato? Chi lo sa? È verde! Sì, fai che c'è la pallina qui Beh, andiamo subito a montarla Beh, allora ci siamo messi per terra perché altrimenti non c'era spazio Il nostro set è ridotto, come sapete già Montiamo Esatto Apriamo Io l'ho già aperta perché è arrivata la confezione da Amazon ammarcata Perciò dovevo verificare un attimino che fosse tutto intero Però non l'ho ancora montata E abbiamo le uova Wow Allora Sembra comunque su delle uova C'è Non so cosa voglia dire Però penso ci sia anche l'italiano da qualche parte Invece no C'è l'inglese Che ti ringraziano per L'acquisto Per l'acquisto, esatto Il colore è tipo carta riciclata Bellissimo Questi hanno già spiato Ma l'avevo già spiato anche io Guarda che cattivo È un colore bellissimo Il colore è molto bello Questa qui è un ballo in carta pressata Allora, tiriamola fuori pian pian io Ci sono due assetti di legno Non direi come è stata attaccata La base Ma non c'è la lapparina Ah, ok No, perché dicevo L'emparizia integrata La voglio comprare All'annuncio Mi serve? Sì che serve Perché se no non serve a niente Non illumineremo mai i nostri liti Molto bene Allora, metto qui Dunque, dentro la scatola Ci sono le istruzioni easy Per iniziare a montare la lampa Che noi seguiremo Io apro la base Tu apro la base Io apro qui Senza base da nessuna partizione Esatto, ci vogliono le basi Si vede, si si vede Si, si vede tutto Con il nostro obiettivo grandangolare Almeno quello ce l'abbiamo Come attrezzatura Non l'ho aumentata Sì, dai C'è gente che usa il box là Come si chiama? Cos'è il box là? Il softbox Noi noi vediamo la mappa da capo Questo Questo è il vero La vera attrezzatura Sì, tanto per quello che deve fare E quello che costa C'è per quello che facciamo noi Molto bene Allora Come si monta sta roba? Trovate molestuzioni Allora, si deve svitare Questo va giù Per poi riavvitare Davvero? Eh, direi proprio di sì Romperemo tutto Svitiamo Togliamo questo La plastichina Questo E poi lo rimettiamo La Tatiana ha più rudo il piede L'importante è saperlo Spero che Tatiana Non mi abbia distrutto La lampadina Data la sua distrattaggine Quanto mi la guardo da io Se no Non montiamo un bel niente È intera È a led Stavo testando Se la incandescenza Era già distrutta È vero che la messa lì Per non romperla Sì Infatti Sì Visto Come non lo hai rotta È intera Sì Non lo faccio Mi metto la scarta Scamizzata Scamizzata Sì Quindi si monta tutta Per essere sicuro Secondo me non funziona così Secondo me sì Ci sono le istruzioni Che dicono esattamente come si fa Se non togliere tutti i tondini E poi rimetterli Ovviamente Dove c'è il doppio tondino di gomma Ah è perché Gli aggiunti vicini Gli aggiunti vicini Gli aggiunti vicini Dai Tatiana Questo qui fallo tu Eh Lo voglio ritare Gira così Sì Davvero Sì Sì Cosa la fa fare Sì Con pre-lampadina Non l'ho rotta Quasi Ok Buon 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 Apri Mi vado Ah no è andata Ok Ragazzi Ho montato la lampada Allora Se la lampadina Effettivamente funzionante O se Tatiana Adesso non è qua Camila Rimandiamo lì Diciamo che Era l'ultima rimasta Adesso non c'è neanche Questo colore suo Ma sono le lampadine Non so se potrei Mandare dietro solo La lampadina Tutto il prodotto Vieni che era la lampada Amore Posso sganciare? Sì sì Slega tutto È intera Ho fatto anche Il test della scossa Che cosa sarebbe Il test della scossa Senti il rumore stretto Ma quello lì Si pregge al descenso Funziona lo stesso Non c'è qualcosa che si muove Tatiana ha rotto il filo Nooo Ok Allora Se lo risoliamo bene Attacca E io provo a scendere Ok Tatiana prova 3 2 1 Ok Porco cane Funziona Forse è un po' troppo Illumina Non si illumina Guardala dentro Scusa Porca Tatiana Ok Ok Direi che Adesso la nostra attrezzatura Fantastica È arrivata È bellissima Funziona Illumina Illumina Come Illuminazione Forse anche Troppo possibile Non ti puoi Illumintare Siamo bianchi Aspetta che Vassa un po' Liso Questa sabato sera Eh Sabato sera C'è Mettiamo a montare Le Ok L'iniziatura del canale Perlomeno Ci sta Hai capito Dai dai Ci sta Ci sta Sono felice Soddisfatto dell'acquisto Lo pagherò 30 euro su Amazon Come hai già detto prima Vi lascio il link in descrizione Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Condividetelo con i vostri amici E diteci se avevate indovinato il colore O se invece No Se l'avete indovinato Cosa facciamo? Mandiamo una taranella a casa Ma anche no Costa più la spedizione della caramella Mi mettiamo un cuoricino Ma tanto lo mettiamo comunque tutti Perciò Se avete indovinato Buon per voi Ciao È bellissimo Grazie a tutti